Allora stiamo al peso valigie Io ho una valigia che pesa 20 chili su 23 massimi Perla ha portato ben due valigie Di cui una pesa 22 e mezzo L'altra pesa 7 e mezzo E ancora forse non ha finito neanche di metterci le cose Come andrà a finire non lo so Le leggendarie valigie di Perla sempre fuori misura Tu Rebecca cosa dici? Vabbè chiudiamo con le foto del giorno E ci vediamo al prossimo video Un grande bacione Ciao